Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Guarda, io mi dichiaro ebreo ad onore, ma tutto quello che accade in ostilità di Israele mi dà sui nervi, mi addolora e mi preoccupa. Quindi io sono contrario anche che durante certe manifestazioni esploda in modo chiaro e netto non solo l'odio, ma quasi quasi anche una specie di programma di sterminio. E d'altra parte Hamas ci ha provato per prima, nessuno li disturbava e loro hanno assalito Israele, hanno fatto un sacco di morti e hanno commesso molte crudeltà che non vale neanche la pena di ricordare per non esagerare. Certo è che Israele ha ragione e ha ragione da mezzo secolo, non soltanto in questa circostanza. In ogni caso io sono dalla parte di Israele senza tante discussioni che mi sembrano veramente scadenti e che non tengono conto di precedenti atroci che riguardano il popolo ebraico. Quindi tu dici giustamente, non è questo il momento di fare grandi distinguo, bisogna stare da una parte ben precisa perché in questo momento secondo te è a rischio anche l'esistenza dello Stato di Israele, secondo te come ne fu nel 1948? Guarda, il rischio lì è permanente, certo è che mi auguro che non accada niente, mi auguro che Israele anche nel caso in cui la guerra dovesse inasprirsi riesca a vincere, tanto per andare giù chiari. Perché Israele non ha fatto del male a nessuno, chiede solo di sopravvivere e invece tutto il mondo islamico è ostile anche all'esistenza degli ebrei ed è chiaro perché lo manifestano in ogni modo. Io sono contrario, contraddissimo, sono indignato e schifato.